Sfida di classifica Nel Razzurri Angolani, abituati da sempre ad obiettivi più prestigiosi, la posizione di classifica di poco ai margini della zona play-out non può ritenersi del tutto corrispondente alle aspettative di inizio stagione. Nel primo atto della sfida l'atteggiamento delle due compagini è a dir poco indisponente, con fraseggi che diventano quasi un miraggio, generando non pochi mugugni da parte del pubblico presente sugli spalti. E anche il nostro taccuino rischia di rimanere immacolato, se non per sporadiche incursioni delle due contendenti equamente distribuite. I padroni di casa sono i primi a prodursi in una offensiva dalle parti di Abate, che al quarto viene aiutato dai suoi compagni di reparto, i quali si frappongono al traversone al centro di De Cinque, smorzato a fondo campo. Gli angolani replicano poco dopo con la bordata da limite di Ndiaie, che non porta a risultati significativi. La fase centrale del primo atto non sarà ricordata per l'intensità agonistica e neanche per il gioco spumeggiante, ma i palati fini dovranno accontentarsi delle briciole distribuite nella fase declinante. Al 39esimo l'undici di Carlucci prova la stoccata, con il siluro dalla distanza di Di Pietro abbondantemente a lato. E prima del rientro negli spogliatoi, il mobilissimo Ndiaie sbuca alle spalle della difesa rosso-blu, ma non riesce a finalizzare adeguatamente sull'invito dal fondo del suo collega d'attacco Bizzarri. La sfera si perde alle ortiche e Michale rimane sostanzialmente inoperoso, così come il suo collega angolano. Alla ripresa delle ostilità, i padroni di casa sembrano partire con il giusto piglio, ma il siluro dal limite di Tucci, peraltro fuori misura, non cambia l'inerzia della gara dei rosso-blu. Sopraffatti al primo acuto significativo angolano della ripresa. Al settimo, Nepa va a segno arrivando a calciare indisturbato da distanza a propizia, con una zampata decisiva sull'ottimo suggerimento del solito Ndiaie. La reazione del Cupello è affidata al neoentrato Nuozi, che riesce a riconquistare un pallone vagante in area ospite, ma viene murato dal provvidenziale e decisivo intervento di Laubi, che vale quanto un gol. Dal possibile pareggio cupellese si passa invece al raddoppio della truppa angolana, a segno con Ndiaie che fa scorrere i titoli di coda con un tocco ravvicinato a porta ormai sguarnita, mettendo a frutto la devastante incursione dalla sinistra di Malocu. Il Cupello rimane spettatore non pagante della contesa e la squadra di mister Deugenio cerca di approfittarne nuovamente, ma in questo caso il palo si oppone alla conclusione di Bizzarri, che non riesce ad entrare nel tabellino marcatori. Basso prova a suonare la carica ai suoi, ma il doppio tentativo ravvicinato, il secondo dei quali su palla inattiva, non si rivelano entusiasmanti e per Abate prosegue la tranquilla e inoperosa domenica tra i pali. Nei minuti finali ci prova anche il neoentrato Nintè, ma senza apprezzabili risultati. Prima del rompete le righe il Cupello riesce ad infilare la sfera alle spalle dell'estremo angolano, ma la posizione di De Cinque è irregolare e il risultato finale rimarrà favorevole alla squadra ospite. Mister Deugenio, sono arrivati tre punti che vi consentono di sperare ancora in un aggancio alla zona playoff. Oggi però una gara abbastanza brutta da parte di tutte e due le squadre, onestamente. Non sono molto d'accordo perché noi già al primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per fare il primo gol. Certo, non è stata una partita spumeggiante, però con molti spunti tecnici. Abbiamo fatto una buona partita, sofferto pochissimo e penso che sia stata una vittoria meritata. State rispettando il ruolino di marcia fissato ad inizio stagione? Certo, noi era la salvezza il primo possibile, valorizzare i giovani. Nell'ultima partita giocavano da 5 ai 7 fuori quota ogni volta, quindi anche oggi i giovani di Belle Speranze che hanno giocato sono entrati, quindi siamo in perfetta tabella chiaramente. Manca ancora qualcosina per la salvezza matematica e poi vediamo che succede. Un cupello un po' sbadato o no? Sì, le partite sono così. Quando azzecchi la partita, come è successo oggi a noi, è stato tutto più semplice. Oggi veramente i miei ragazzi sono stati concentrati all'inizio della fine, sono molto contento. Mister Carlucci, oggi probabilmente è una questione di motivazioni, ne aveva sicuramente di più l'angolana. Voi siete quasi arrivati all'obiettivo stagionale e probabilmente i giocatori ne hanno risentito. No, no, assolutamente no. Non c'è nessun obiettivo già raggiunto, assolutamente. Purtroppo mentalmente abbiamo fatto fatica contro una squadra organizzata che correva prima più di noi, arrivava prima sul pallone e quant'altro. Purtroppo per in settimana già ho visto qualcosa che eravamo un po' leggeri e oggi si è visto in mezzo al campo. Marinelli lo hai inserito dall'inizio e poi ha avuto qualche altro problema fisico? Sì, sì, mi hai chiesto il cambio perché evidentemente c'è qualche altro dolore al ginocchio. Perrelle era squalificato, Nintè non l'abbiamo rischiato perché aveva un problema la tuttora e quindi Zinni la stessa cosa. Abbiamo mandato in campo chi sta bene e mi aspettavo qualcosa di più da chi ultimamente stava giocando di meno e invece vuol dire che avevo ragione prima quando non giocavano. L'angolana ha meritato quindi questo risultato? Sì, se andiamo ad analizzare la partita penso di sì. La cosa che mi dispiace è che comunque dobbiamo essere più cattivi e più concentrati perché se no le partite non le porti mai a casa.